Il 28 agosto torna una tradizione per il Comune di Valmadrera, il mese dello sport, che in realtà saranno due mesi perché terminerà a fine ottobre. È una tradizione a cui teniamo molto, inaugurata negli anni 80 da Giancarlo Vassena, presidente della consulta dello sport, e che abitua le società sportive a lavorare insieme. Ci sono tornei tradizionali, si parte il 28 agosto col torneo Gargiulo, e poi ci sono anche campionati nazionali, iniziative importanti, come l'11 settembre il triathlon, come la gara in salita dell'Osa, che è prova e campionato nazionale, come il ricordo il 21 di ottobre a 50 anni distanza della via alpinistica dei Cinque di Valmadrera. Quindi è un modo per dire lo sport riunisce, lo sport fa partecipare insieme, e soprattutto è un segno di speranza nella comunità perché tutte queste associazioni che io ringrazio fanno in modo che centinaia di ragazzi abbiano una sana crescita sportiva. Il Comune di Valmadrera da anni fa da collante alle associazioni per organizzare questa attività che attira tantissimi cittadini. Quali sono le novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso di cultura sportiva, e per questo organizzeremo tre serate, due di queste al Fatemene Fratelli, con incontri con autori che hanno scritto libri a tema sportivo, mentre invece la serata al 21 ottobre ci sarà una serata al Cinemateatro Artesfera, organizzata dal CAI in collaborazione con l'Osa, la SEV e il gruppo alpini di Valmadrera, per ricordare una grande impresa alpinistica valmadrerese. C'è la novità quest'anno del Vertical organizzato dall'Osa, quest'anno sarà gara nazionale. Abbiamo anche tante altre iniziative e ci aspettiamo grande pubblico.